Eeeh, trap che ne pensi di Kyle, poi Odru. Ma vabbè, non mi piace molto. È uno di quei champion che è dato che deve scalare molto e... Se il tuo team fa 0-20, poi anche se scali, ciao. Ti si resetano le impostazioni, ma donna tutte le volte, Nasty. Sono sempre un sacco di bug su questo gioco. Scusi, mi è venuto a scrivere il verso dell'elefante. Provate a scrivere il verso dell'elefante, come si chiama? Ha un nome, no? Oh, basta attaccare le mie torrette. Ma cos'hanno contro le mie torrette? È il mio modo di farmare. È come se io attaccassi le tue palle di fuoco. Non lo faccio? No? Tieni i miei ingranaggi. Bene. Che bello, nessuno può gancare i merdinger. La torretta potevamo anche metterla più avanti in realtà. Proviamo a metterla qua. Ha doggiato, nemmeno aspettavo. Ruggito, l'elefante barrisce. Provate a scrivere proboscide e magari... Lascia fuori qualcosa. Oh, Dark Harvest. Adesso, ragazzi, mi alleno con i merdinger. Divento il primo e i merdinger EU. Così attiriamo gente. Mio. Così finalmente vedete chi è l'emmerdinger dell'angolo rottura di Fieric. In azione... Solitaria, però... In mid lane. E mer main no. È noioso il merdinger? Cos'è che ha di male? Secondo me è un ottimo champion. Divertente. Rilassante, perché i suoni delle torrette sono rilassanti. Beccati sto ingranaggio. Beccati quest'altro. Beccati anche questo. Madonna, questo si va a poccare così. Attacchi e basta. Stamò. Sì. Voglio essere gancato. Voglio essere gancato, cazzo. Non si può entrare. Ecco. Molto bene. L'angolo rottura in azione. Ragazzi, lo sapete che non si può gancare i merdinger? Mi chiedo perché ancora lo facciano. Guarda là. Picchiate quella Annie. Questa è i merdinger? Sì ragazzi. Queste sono le piazze. Le tre torrette. Arrivano a gancarti. Doppia. Grazie ragazzi. 3000 IQ. 3000 IQ. Vabbè o... Poi ho sbagliato anche delle spell io, vabbè. Loro hanno sbagliato più di me. La mid è caporetto. La mid è ancora più facile che la bot. Ovviamente. Ci divertiremo io e Annie. Soprattutto con i gank di Volibir. Award per la vision, eh sì. Ma... Riferisco le sorprese. Però va bene, va bene. Picchiamola, sì! Sì! Muori! Non è morta! Chissà per quanti pochi HP. Chissà per quanti pochi HP perché avevo un red, raga. Va bene. Va bene, va bene. Va, spacchiamo tutto. Perché non vedo i danni? Qua è sui minion li vedo, ok. Non vedo i danni sulle torri, come mai? Ma non vedo i danni su Annie? Come mai? Che cazzo è sta roba? Ah, non vedo i danni su Annie. Non so se avete visto, non si vedono i danni sui campioni. Adesso li provo. Prendiamole una spell. Ecco, vedi? Non si vedono i danni. Cioè, quindi, boh, non so quanti danni sto facendo. Ora li vedo. Ma! Riproviamo. Facciamo una spell. No, no, se l'ha misso non va bene. Cosa può essere questa cosa? Fare Rv. Eh, sì, ma non pensavo che... Cioè, pensavo di ucciderla senza Rv. Non vedo i danni delle spell. Guarda qua, non vedo i danni che fa la torretta. Ah, non vedo i danni. Solo degli attacchi base vedi i danni. Com'è possibile questa cosa? Vi prego, aiuto ragazzi. Solo i danni magici, esatto. Voglio essere gankato. Gankatemi, sì! Non si può entrare nell'angolo rotturo. Vabbè, anche se non vedo i danni, loro non vedono le kill. Penso che sia peggio per loro, non per me. C'era una sezione, adesso controlleremo. Beh, dammi i soldi. Niam back. Interfaccia. I ripristini predefiniti, la facciamo prima. Vorrei prendermi anche... No, vabbè, facciamo questo, dai. Perché volevo prendermi in magici, ma... Adesso rimettiamo tutto come era. Mostra nel mio evocatore togli. Vedete il vecchio puntatore. Mostra costi, minuti più secondi. Mostra chat. Mana esperienza. Visualizziamo tutto, no. Ecco qua. Ora vediamo se si vedono, cazzo. Test di combattimento era tutto spuntato. Ancora non si vedono. Guarda. Non si vedono i danni magici, ma che cazzo è sta cosa? Video. Ma. Non sapremo quanti danni facciamo. Ma che impostazione di merda è? Ma esiste anche una cosa per togliere i danni magici. Ho anche fatto ripristina predefiniti e ho messo tutto quanto. Deve spuntare sotto, raga. È tutto spuntato. Test di combattimento. Dan, adesso lo tolgo. E adesso lo rimetto. Wow, facciamo così. Ora si vedono. Cioè, devo toglierlo e rimetterlo. Ma. Muori, cazzo. Ingranaggiata. Ok, questo flash era eccessivo. Gioco un po' rotto. Grazie, Riot. Per il tuo gioco. Ok, possiamo tornare al nostro game senza pensare a queste cose. Scusate, ragazzi. Perché ci tengo a vedere quanto danno faccio. Ecco, guarda qua. Vedi, 50. Ma non so le cose. Vedi, 58 danni magici alle torri. Oh, ora tutto torna. Ora posso andare di Mejai. No, questo se lo prendo non posso prendere Mejai. Secondo me è esagerato il Mejai. Però, ci proviamo. Non va a libero col cazzo che ci torna a mie idee. Sì, giustamente. Finalmente io posso concentrarmi invece sulla partita. Perché cioè, io stavo giocando metà partita. Ero al 50% concentrato sulle danni che non si vedevano. E il resto sul game. Sì. Stami pure addosso, bastardo. Quanto corri? Stai, beccati il mio ungranaggio. No, me l'ha rubata. Ma c'era bisogno. Adesso che ho preso Mejai voglio le kill e mi danno gli assist. Va bene. Darius è meglio di Annie. Sì, dai. Più bravino. Prima torre. No, seconda. Ma stanno carriando tutti i miei compagni. Voglio essere gancato! Peccato. Aracan? Cioè, Aracan si è sacrificato per me. È della Z-Challenge anche lui? Ha capito cosa stiamo facendo? Toh, beccatevi sto bello. Sturrettata gigante. Bella lì. Il sacrificio di Aracan. Uno di noi. Ma ragazzi, avete visto? Una. Ah sì, lo so fare anche io quello, Ash. Buongiorno. Mo ci prendiamo. Questo. Aracan uno di noi minchia. Ragazzi, Aracan si è suicidato. Cioè, si è sacrificato per me col flash sul grab di Nautilus. Ma che cosa ha fatto? Poi dopo abbiamo playato tutti gli altri. Abbiamo lasciato un bel turrettone. 4-0, 4-0, 8-0. Cioè, ragazzi, ma che team è questo? Ma che team abbiamo stasera? Questo è il bronze. McPeer, Aracan, I love you. Thank you. E' molto contento. No, Jinx deve andare a FCO. Beh, come penserà? Eh, volevo fare il blu, ma ho trovato anche Volibir. E allora ho detto, vabbè, facciamo entrambi. Grabbami qua, bastardo. Eh, così, così. Ma come? Ma cosa? Fortissime Merlinger, ragazzi. Quanta vita sarà rimasta? Un cazzo! Ma! Per un millimetro non l'ho presa. Per un millimetro non l'ho presa, cavolo. Ho fatto la sua mossa. Anch'io c'ho la V di Ashe. Bravissimo. Beccati la torretta. Danie da pochi imbarazzanti, infatti. Ma è bellissimo. Potremmo fare un po' di angolo rottura, anche se sono da solo. Ci proviamo. Ho duemila gold. Da solo non sarà mai come con Rick. Però va bene, ragazzi. Già che ci siamo, vediamo il game più interessante. Scappate, amici! Scappate! No, amici! Amici compagni! Tanto mi piacerebbe piazzare un bel turrettone lì. Oh mio Dio. Via, via. Ci provo, raga! Sarà il sacrificio per voi! Non si può entrare nell'angolo rotture! Bene, da ora in poi lo faccio da solo. Basta. Ciao Fieric! Va bene. Povero Rick. Mamma mia. Dissing. Ragazzi, fortissimo Emerdinger. Eh sì, molto molto bello. Vai. Piccato per Annie, eh. Annie se l'è andato in un altro mondo, probabilmente. Cazzo è finita la mia ciabatta. Ragazzi, guardate cosa ha scritto Ash. Emer Smurfing Challenger. Sto smurfando da Challenger. Mamma mia, raga. Oh, you know! Come fa a saperlo? Come lo sa? Bella a tutti, ragazzi! Benvenuti nell'angolo rotture! Dov'è la mia penta? Facciamoci prendere un po' di danno. Così magari Darius arriva. Per la penta! Dai! Uno official penta. I think we can all retai. Vai, uno V5. C'è un'altra! Codice, c'è un'altra quadra! Mamma mia, in continuazione. Povero codice, deve clipare in continuazione. Eh, sono responati, peccato. Però ci stava, era una penta. Ringrazierabba, ma ci sono riuscito. Oh, benissimo, bravo Dark. Comunque su YouTube c'è pieno di guide. Eh, ci riproviamo. Arrivo io! Un nemico è stato ucciso. Ma spariscono proprio. Uff! Uff! Beccateli tutti, sì. Sti proiettili qua, sti missili. Che cazzo? 22-0! Mamma mia, raga. Ma che game è stato? Cioè, stupendo. Vediamo l'ultima azione. Commentiamola insieme, guarda qua. Turrettone. Pam, pam, pam. Morti tutti. In merito una... Almeno B, ragazzi. Almeno B di Bologna, sono sicuro l'ho preso. Bologna sniper. Esplosi tutti come delle puttane. Possieranno morire? Mi sa di sì, ragazzi. Guardali, guardali. Adesso gli arrivano i missilotti proprio nel mantello. Puff! Esplosa. Eh, boh. Onoriamo Rakan per il suo sacrificio. Thank you, Rakan. Già tutti usciti, va bene. Bella partita. S più, ragazzi. Mamma mia, un'altra... Proprio... Wow. Bellissimo il Merdinger. Merdinger mid, ragazzi, è troppo sottovalutato. Vabbè, ok, siamo in ferro 1, ok. Che rank era Ash che dice che smarfavo da Challenger. Pronzo 4. Va...